Allora direi che possiamo cominciare. Buonasera, grazie di essere qui. Io sono Vittorio Sabadin e presento questa sera il libro di Eva Grippa, Kate, luci e ombre della futura regina. Eva è una collega di Repubblica, lavora da due decenni quasi a Repubblica dove ha seguito molti settori del giornale e condivide con me la passione per la Royal Family. Anch'io ho scritto alcuni libri sulla Royal Family dopo essere stato corrispondente da Londra per il giornale La Stampa. Eva ha deciso giustamente di dedicare un libro all'unica donna che è riuscita a farcela nella Royal Family. Se pensiamo alle figure di Diana, di Sarah Ferguson o di Meghan, vediamo donne che hanno sposato esponenti di alto livello della Royal Family e che però non sono riuscite a reggere il peso delle nuove responsabilità, delle nuove incombenze, del nuovo modo di vivere che essere un esponente della Royal Family comporta. C'è la leggenda che tutte le ragazze vorrebbero essere principesse, tutti i ragazzi vorrebbero essere principi, ma la realtà è che ogni esponente della famiglia reale fa una vita infernale che consiste nel rinunciare alla propria vita individuale, alla propria vita privata e dedicarsi per tutta la vita a una serie di rituali, a una serie di impegni quotidiani che sono veramente infiniti, sono infiniti. Si comincia al mattino, ci si mette un abito, si va a inaugurare una scuola, al pomeriggio bisogna fare un'altra cosa. Pensate che la regina Elisabetta, che oggi ha 95 anni, fino a pochi anni fa aveva più di 500 impegni l'anno, vuol dire insomma più di un impegno al giorno se si tiene conto che nei weekend magari pure lei si riposava e che d'estate passa le vacanze a Balmoral. Quindi è una vita estremamente impegnativa. Di fronte a questi impegni Diana, Sarah Ferguson, Meghan hanno deciso di fare un passo indietro creando non pochi problemi alla Royal Family come tutti abbiamo visto, leggendo i libri o anche solo leggendo i giornali. E invece Kate ce l'ha fatta. Kate è l'eccezione a questa specie di regola per la quale appunto fare la moglie di un esponente della famiglia reale è una cosa quasi impossibile. E perché ce l'ha fatta? Eva, in questo libro che lei nella prefazione non definisce una biografia perché giustamente di biografie di Kate ce ne sono tante e chiunque può anche solo su Wikipedia farsi un'idea di quando sia nata, di che studi abbia fatto e di come sia andata fino a questo momento la sua vita. Però nel suo libro cerca di fare un ritratto di Kate, luci e ombre di Kate perché questa ragazzina che vediamo, questa ragazza che vediamo così perfetta nelle immagini, negli atteggiamenti, ha anche lei forse qualche lato oscuro che Eva questa sera ci racconterà. Ma soprattutto, diciamo, a differenza di William, suo marito, Kate ha avuto fin da bambina un vantaggio. Cioè Kate è nata in una famiglia felice. William invece è nato in una famiglia infelice. Lui assisteva quando era piccolo ai continui litigi fra Carlo e Diana, sentiva la madre Diana che si chiudeva in bagno per piangere, le passava i biglietti sotto la porta. Insomma William ha molto sofferto per questa situazione. Invece Kate ha avuto un'infanzia che qualunque bambino vorrebbe avere. Quindi ci racconti, Eva, come nasce Kate, in che contesto familiare e perché appunto la sua infanzia è stata molto diversa da quella di William. Buonasera a tutti innanzitutto. Partiamo proprio da dove arriva Kate, dove nasce in questa famiglia sicuramente felice perché la coppia di Carol e Michael Middleton sono una coppia di impiegati della British Airways, quindi hanno un lavoro fisso, una casa graziosa in campagna e il loro è un matrimonio assolutamente d'amore, un matrimonio felice. Hanno tre figli, Kate è la maggiore, poi ci sono Pippa e il più giovane James e a un certo punto la loro storia è anche la storia di un bellissimo esempio di crescita sociale perché a un certo punto Carol è incinta del terzo genito comincia ad avere un'idea carina che è quella di portare, di porta in porta nel suo quartiere, delle party bags, quindi delle buste con dentro tutto il materiale per le feste. In questo modo diventa in poco tempo milionaria, quindi anche il marito si dimette, insomma c'è una crescita sociale incredibile di questa famiglia che quindi diventa sempre più ricca e cerca di dare il meglio ai propri figli. Ed è anche una famiglia molto felice perché i tre fratelli sono molto legati, trovano sempre conforto e guida nei genitori e tra l'altro i Middleton diventano la rete di supporto anche per William perché nel momento in cui Kate inizia a frequentare questo ragazzo lo comincia a portare a casa e William si trova in questa casa borghese, informale, dove finalmente può prendersi le birre da solo dal frigorifero, girare in pantofole, sdraiarsi sul divano a vedere la televisione, cioè tutto quello che a casa sua di fatto non ha mai potuto fare. E oltretutto trova una coppia, ovvero i genitori della sua ragazza che lo accolgono, lo sostengono anche negli anni in cui appunto sono dei ragazzi che quindi hanno degli alti bassi all'università. Quindi sicuramente diciamo l'esempio di felicità di questa famiglia è anche una cosa che la stessa Diana aveva sempre desiderato nella sua infanzia che a sua volta era stato anche abbastanza infelice e sia lei appunto sia il figlio William non avevano mai avuto. Tra l'altro l'esempio genitoriale, il modello genitoriale di Middleton è quello che oggi William e Kate cercano di replicare con i loro figli, quindi quello di una famiglia che sia anche molto informale, che consente ai bambini di sperimentare, di scorrazzare in campagna. Quindi sicuramente questo vuol dire che Kate realmente è cresciuta felice e questo lo dimostra il fatto che sia una persona molto sicura di sé. Sì, ed è anche, e cresce anche come una bambina diciamo molto disponibile a fare quello che le chiedono i genitori, a stare al suo posto, a diventare molto brava a fare tutto, cioè se prende lezioni di piano diventa molto brava a suonare il pianoforte come si è visto qualche settimana fa, poco prima di Natale, quando ha fatto la prima esibizione pubblica delle sue capacità pianistiche. Ma anche a scuola viene iscritta alle migliori scuole, cioè non solo con i soldi che tu dicevi che Carlo ha guadagnato con Party Peaces, ma anche con una specie di fondo di cui disponeva il padre Michael che aveva ereditato da suo nonno, il quale aveva messo a disposizione dei soldi vincolati proprio per l'istruzione dei figli di Michael. Quindi Michael fu in grado di mandare la figlia alle migliori scuole, dove nelle migliori scuole di solito si incontrano anche i migliori partiti. Quindi quando è che Kate e William si vedono per la prima volta? Molto prima dell'Università di St. Entendilus, vero? Esatto, si incontrano già da ragazzini, avevano tredici anni, erano entrambi, diciamo, quelle che per noi sono le scuole medie e praticamente Kate è sugli spalti a tifare per la squadra di, oddio, dei diocchi e della propria scuola quando vede arrivare in campo William, che allora era un po' l'idolo di tutte le ragazzine, cioè in Inghilterra tutti avevano il poster del principe in camera assieme a quello di Tom Cruise, proprio perché era il bellissimo, il principe da sposare, c'era tutta questa immagine dietro e in realtà tra tante ragazzine che stavano lì e facevano il tifo per lui, fingevano di svenire, le amiche invece di Kate raccontano che lei in un certo senso era emozionata ma molto fredda, molto, riusciva a mantenere la calma e poi anche negli anni diranno di lei che è sempre stata una che aveva le idee chiare, lei forse si era innamorata davvero di quel ragazzo, non si sa se è per amore a prima vista oppure se ne innamorerà dopo, però ha avuto sempre le idee molto chiare, cioè pochi frizzi e lazzi, io amo quest'uomo e me lo porto fino all'altare. E poi i due si rincontrano, si rincontrano all'università di St. Andrews, come tutti sappiamo, quindi in Scozia, studiano assieme, vanno a convivere, il che è una cosa parecchio diversa. Scusami se ti interrompo, questa scelta dell'università di St. Andrews è come dire un po' sospetta, no? Molti a quell'epoca e anche dopo hanno accusato la madre di Kate, Carol, di essere in sostanza un'arrampicatrice sociale con le idee molto chiare sul futuro delle sue due figlie, non solo Kate ma anche Pippa, Filippa, che è la secondogenita e poi anche il terzogenito James, cioè entrambi i coniugi Middleton volevano che le figlie si sistemassero bene. Con il seno di poi impresa perfettamente riuscita, perché entrambe si sono sposate molto bene, ma soprattutto ovviamente Kate. Allora, che cosa succede al momento di scegliere l'università? Ci sono alcuni eventi sospetti, ce li vuoi raccontare? Allora, gli eventi sospetti, diciamo, si inalellano uno dopo l'altro. Allora, succede che Kate aveva scelto l'università di Edimburgo, le piaceva l'idea di andare in Scozza, però voleva frequentare probabilmente una grande città e si iscrive lì. Poi su, spinta della madre che continua invece a dirle di iscriversi, di mandare una seconda iscrizione invece a Sant'Andreus, alla fine cede, cede questa insistenza e quindi si concede un sabbatico, quindi alcuni mesi in cui lavora e va in giro per il mondo, va a fare un sabbatico in Cile, presso un'associazione umanitaria, quant'altro, e finalmente arriva a Sant'Andreus ad anno già iniziato, quindi si inserisce casualmente, casualmente, nello stesso corso di studi del principe, casualmente prende una stanza proprio al piano di sopra, quindi nella stessa ala della residenza. Una pura combinazione anche questa. Una pura combinazione. Sicuramente allora ci sarà stato qualcuno dietro che ha manovrato molte le carte, però c'è anche da dire, spezziamo una lancia a favore di questa povera mamma che innanzitutto è sempre stata una donna tenace e molto ambiziosa, Carol, infatti è un'ottima imprenditrice e sicuramente come tante mamme di allora aveva il pallino, il desiderio di far frequentare alle proprie figlie, soprattutto perché poi il terzo genito era ancora piccolo, le scuole migliori, i migliori circoli, il circolo aristocratico, perché c'era questo desiderio anche di crescita sociale, no? Che poi tra l'altro le deriva anche dalla propria mamma, la prima donna arrampicatrice sociale, se così vogliamo definirla in maniera molto cattiva, era stata la mamma di Carol, Dorothy, e quindi diciamo che fa in modo che le strade di questi due ragazzi si incrocino. Poi però questo non è detto che è necessariamente due... Sì, anche perché nel momento in cui uscì la notizia che il principe William si era iscritto all'Università di St. Andrews, il numero di iscritti all'Università aumentò del 44%, ma il 90% di questo 44% erano ragazze che seguirono, diciamo, l'esempio di Kate. Che segnavano, esatto, quindi lei era una delle tantissime... Non è che a William nel suo corso universitario mancassero le occasioni di incontrare ragazze, com'è che Kate riesce invece a conquistarlo? In una famosa serata, in una famosa spilata... Una famosa serata, sì, si dice tanto questa cosa, ma secondo me prima, secondo me prima. Innanzitutto sì, in questi anni diciamo che la scorta di William aveva come primo compito quello di liberarlo da tutte queste ragazzine che di fatto gli si buttavano contro, arrivavano urlando al campus, cercando di vederlo, di fotografarsi insieme a lui. Quindi era assediato dalle gruppi, diremmo oggi, ma... E si innamora di Kate, ma si innamora in realtà non subito. Forse per lei si tratta di un colpo di fulmino, ma per lui per niente. Lui sfarfalleggiava in giro, aveva tante ragazze, tra l'altro tutte dal triplice cognome, quindi tutte buone frequentazioni aristocratiche, eccetera. E in realtà lui e Kate diventano amici. E lui è fondamentale in questa prima fase, in questo primo anno di studi, perché a un certo punto, appunto quando arriva l'estate, lui entra in crisi, vuole abbandonare l'università, ma vuole abbandonare Sant'Andreus, perché è stufo di questa cittadina in cui non succede niente, vuole abbandonare la Scozia e andare a studiare in Inghilterra, cosa che avrebbe causato un caso politico, perché per la regina dire cara Scozia, mi dispiace, sei noiosa, mio nipote torna a studiare invece in Inghilterra, sarebbe stato un po' insomma critico. Kate lo convince a restare e gli dice, guarda, prova a cambiare corso di studi, forse storia dell'arte non fa per te, prova geografia. Quindi i due sono veramente molto amici. A un certo punto qualcosa cambia. Si dice, probabilmente la sera in cui lui la vede sfilare su una passerella per una sfilata di beneficenza dell'università, Kate sceglie un abito di maglina praticamente trasparente, quindi arriva quasi in ligerì sopra la passerella, e pare che William praticamente sia svenuto sulla sedia che abbia detto all'amico Fergus, mamma mia, Kate è una bomba, e quindi forse in quel momento ha cominciato a vedere lei qualcosa di più, di una semplice amica. Sì, questo Don't Walk Show è una sfilata che si tiene tutti gli anni all'Università di St. Andrews, organizzata dagli studenti per beneficenza. E consiste in questo, che i ragazzi preparano dei vestiti, come se fossero loro degli stilisti che preparano degli abiti di moda, e poi li fanno indossare a ragazzi e ragazze dell'università che sfilano in un palcoscenico. E in platea ci sono altri studenti dell'università che pagano un biglietto per assistere a questa sfilata, e quindi Kate lì fu la star della serata, perché, come hai detto tu, praticamente si presentò in lingerie con questo piccolo negligee che a malapena la copriva. Un'altra caratteristica dell'Università di St. Andrews, e questo lo disse il Preside nella prima giornata in cui accolse le matricole, è che è l'Università della Gran Bretagna nella quale gli studenti si sposano di più fra di loro al termine del corso di laurea. E quindi proprio il giorno della laurea fu la prima volta che Kate incontrò la regina, perché la regina andò ad assistere alla laurea di William, e c'erano ovviamente anche i Middleton, e quindi la prima riunione familiare avvenne nel 2005. Esatto, anche se alla lontana, perché non furono presentati né niente. Sì, sì, però si sapeva benissimo chi erano. E lì comincia però un periodo terribile, dopo la conclusione dell'Università, perché questo legame che era nato tra i banchi dell'Università non si consolida, fa fatica a trovare una stabilità. Che cosa succede? Come mai William scappa e Kate è costretto ad inseguirlo? William scappa perché era un ventenne, quindi giustamente non aveva proprio la minima intenzione di mettere un anello al dito della sua fidanzata, per quanto le volesse bene e tutto. E soprattutto William ha già una strada segnata per lui, perché la monarchia l'ha decisa, quindi si sa che dovrà andare all'Accademia Militare, eseguire un corso di addestramento di diversi anni, quindi si sa un po' quale sarà il suo futuro. Per Kate invece si prefigura un periodo parecchio, diciamo, vuoto, vuoto di qualsiasi attività, perché non deve più studiare, quindi comincia ad aiutare un po' l'azienda di famiglia, però in realtà lei aspetta che William le chiede di sposarlo. E quindi da qui diventa la Whitey Katie, che poi tutti, come l'hanno soprannominata, diciamo, i giornalisti dei tabloidi inglesi, cioè la Kate che aspetta, quella che si deve cercare qualcosa da fare nel frattempo. Le arrivano voci dalla regina, dalla famiglia reale, le viene detto che alla regina farebbe piacere che lei si trovasse a un lavoro, perché non è bello che la fidanzata, sebbene non ufficiale di William, vada in giro tutti i giorni tra palestra e shopping, e B che si impegni in qualche causa di beneficenza. Quindi lei cerca di fare qualcosa in questo senso, si trova un lavoretto nella moda, fa la buyer per degli accessori. In tutto questo William che cosa fa? Approfitta delle pause dall'Accademia per sfarfalleggiare in giro, quindi approfitta di questi inviti su yacht, vacanze su yacht milionari, inviti di tutto questo circolo aristocratico che frequenta da tanti anni assieme a Derry, va in giro per il mondo e viene sempre associato dalla stampa a delle nuove conquiste, perché naturalmente i tabloidi su questo ci lucrano su, e quindi Kate ogni mattina si sveglia e sul tavolo della colazione si trova il suo ragazzo associato a tutti questi nomi attisonanti dell'aristocrazia inglese, non solo, anche diciamo dell'aristocrazia europea. Quindi è sicuramente un momento in cui ecco il loro rapporto fa acqua da tutte le parti e però Kate te nasce e soprattutto ha dietro una famiglia appunto molto presente, soprattutto la mamma, che le dice sempre pazienta e soprattutto lascialo andare, lasciagli la briga sciolta perché vedrà che poi tornerà da te. A un certo punto si lasciano anche. Il 2007 si lasciano, lei piange le sue lacrime sul divano, tra l'altro nello stesso periodo anche la sorella Pippa si era lasciata con il fidanzato storico e quindi a un certo punto però la mamma le rimette su e dice bene ragazzi andate nel vostro piedatter di Chelsea che nel frattempo avevano comprato i coniugi Middleton per le figlie perché potessero frequentare le feste aristocratiche diciamo a Londra perché invece i genitori vivevano diciamo in campagna e dice bene ragazze andate a Londra cominciate a farvi vedere in tutti i locali attenzione però a come ti comporti dice a Kate perché nel momento in cui ti vede associata ad un altro ragazzo ti vede scambiare effusioni con un altro ragazzo è finita. Cioè quindi attenzione a come ti comporti però va in giro e fatti desiderare. Effetto riuscito passano tre mesi lui se la va a riprendere quindi diciamo c'era dietro qualcuno che sapeva orchestrare le cose parecchio bene. Perché il problema con Kate il problema di Kate era proprio quello come dire di come hai detto tu dimostrare che era desiderabile che altri la inseguivano però non doveva esatto questo le riusciva bene però poi non doveva neanche non doveva esagerare nel concedersi diciamo così e lì c'è un colpo da maestra devo dire perché lei a un certo punto viene fotografata con l'ex del primo amore di William della famosa gecca quella a cui William aveva chiesto per scherzo quando erano ragazzi di sposarlo tra l'altro in Kenya dove poi invece chiederà seriamente la mano di Kate quindi il colpo da maestra di Kate che si fa fotografare con l'ex della ex di William sì ma lì bisogna fare attenzione voglio solo ricordare un episodio buffo come forse sapete Carlo prima di di corteggiare le idee di Diana ebbe una storia con la sorella di Diana con Sara e stettero per qualche mese insieme e poi Sara appunto fece l'errore della vita nel senso che diede un'intervista a un giornale e disse ma in fondo a me di sposare un postino di sposare l'erede al trono per me lo stesso quello che conta è l'amore allora Carlo le telefonò e le disse senti sposa pure il postino tante grazie e arrivederci quindi bisogna sempre fare un po' di attenzione quando si vuole fare ingelosire un membro della famiglia reale e Kate in questo è stata bravissima tu scrivi però anche che ad opporsi all'ingresso di Kate nella Royal Family fu soprattutto Camilla perché Camilla ce l'aveva con Kate allora Camilla si era fissata e questo non si non faceva mai a meno di ripeterlo a Carlo che William dovesse sposare un'aristocratica proprio lei che aristocratica non è perché noi conosciamo Camilla con il cognome di Parker Bowles che in realtà è il cognome dell'ex marito perché Camilla Shand in realtà non era un'aristocratica era una che aveva sempre frequentato questi circoli ma voglio dire si vantava di un aneddoto per un aneddoto ovvero del fatto che la sua bisnonna fosse stata l'amante di Edoardo VII però non basta un amante nel letto del re a fare di te un'aristocratica eppure lei Kate non la poteva vedere addirittura quando pare che incontrò la prima volta la famiglia di questa ragazza poi commentò sprezzante agli amici Meet the Fokers che è il titolo di quella famosa commedia di Ben Stiller che da noi è stata tradotta come ti presento i miei come a dire che quella era veramente una famiglia tremenda e in realtà poi però c'era anche un po' di gelosia forse da parte di questa donna perché erano passati quasi 30 anni dal momento in cui aveva conosciuto Carlo si erano innamorati e ancora aspettava di poterlo sposare e a un certo punto infatti guarda caso alle nozze che finalmente vengono concesse dalla regina a questo figlio e alla famosa sua Camilla Kate però non viene invitata un po' perché non era la fidanzata ufficiale ma un po' anche per non oscurare la sposa nel suo grande giorno ovviamente nella Royal Family fanno sempre molta attenzione che quando c'è un evento che riguarda un membro della Royal Family non ci sia qualcos'altro a oscurarlo se Kate fosse andata probabilmente tutti i giornali avrebbero parlato di lei così come capitava al povero Carlo quando faceva dei discorsi importanti e i giornali il giorno dopo parlavano della nuova pettinatura di Diana o del nuovo cappellino di Diana ma descrivi Camilla un po' come non so se hai visto probabilmente la serie The Windsor su Netflix in cui Camilla è difinta come un'eterna cospiratrice che vuole sempre intrigare eccetera non lo so io non sono tanto d'accordo con te su questo anche perché Camilla come ricordavi tu ha le stesse non dico umili ma insomma le stesse origini borghesi di Kate e quindi avrebbe dovuto forse trovare un motivo per incoraggiarla e invece a incoraggiarla è stata una persona di cui si parla pochissimo e che però anche adesso ha un ruolo importantissimo a fianco della regina Elisabetta che essendo arrivata a 95 anni di età come tutte le persone molto anziane non ha più amici ancora vivi amiche o amici ancora vivi recentemente è morta una delle sue ladies in waiting alle quali era più affezionata e questa persona di cui si parla pochissimo è Sofia la moglie dell'ultimo genito della regina Edoardo la contessa di Wessex e Sofia invece l'ha molto aiutata a introdursi nella Royal Family no? Sì Sofia è un personaggio diciamo che per noi è secondario perché è arrivato sotto i riflettori un po' soltanto negli ultimi tempi da quando poi di fatto è scomparsa Meghan Markle quindi ha creato non un vuoto una voragine e quindi la sua lachette non bastava diciamo occupare questo spazio in realtà però Sofia c'è sempre stata dietro le quinte perché è stata lei che probabilmente la regina ha chiesto di aiutare Kate nel suo apprendistato a corte e innanzitutto Kate arriva non totalmente da outsider perché comunque si fa prima un tirocinio di quasi dieci anni prima di diventare la moglie di William quindi un po' di meccanismi l'aveva già capiti l'aveva studiati sicuramente perché poi questo lo sottolineo Kate è una sgobbona Kate è una che fin da da ragazzina come dicevamo ogni cosa che si metteva a fare lo faceva per con il fine di eccellere quindi di risultare sempre la prima in tutto che si trattasse di correre la maratona di suonare il pianoforte o di imparare a menadito tutte le regole del protocollo della casa reale però comunque le serviva una guida anche soltanto per capire delle consuetudini quindi quello che non è scritto nel protocollo ma che comunque deve essere fatto ad esempio il famoso ordine d'ingresso all'interno di una stanza oppure tutto il sistema complicatissimo degli inchini cioè quando c'è William a lei è dovuto l'inchino anche da parte ad esempio delle cugine delle principesse Beatrice e Eugenio quando William non c'è quell'inchino non l'è più dovuto quindi tutti questi meccanismi e poi Sophie è anche una persona molto molto alla mano umile ecco anche nel suo modo di porsi quindi le due sono diventate da subito delle ottime amiche sicuramente lo sono ancora lei è di supporto per la regina come abbiamo detto ma lo è anche per la stessa Keita sì anche Sophie viene da da una famiglia borghese ha fatto di professione alla segretaria e quando appunto si fidanzò e sposò il quarto genito della regina i giornali titolarono il principe e la segretaria la segretaria sì i tabloidi britannici non risparmiano che non sono mai stati simpatici né accoglienti non risparmiano nulla a nessuno ma può darsi che Camilla insomma sospettasse anche lei che Kate fosse un'arrampicatrice sociale tu citi questa frase perfida che veniva attribuita sia a Kate che a Pippa che erano le sorelle glicine perché erano decorative erano profumate e si arrampicavano dovunque molto facilmente quindi può darsi che Camilla avesse questo sospetto cioè che William stava andando a sposare una donna che in realtà lo inseguiva soltanto per avere un ruolo per avere il ruolo più importante che una donna può avere in Gran Bretagna quella di essere o la regina o la moglie del re però insomma devo dire che se anche le intenzioni iniziali erano quelle poi il comportamento di Kate è stato finora impeccabile da un punto di vista della regina poi ci sono molte femministe che dicono no dovrebbe rompere di più le scatole dovrebbe farsi di più valere che è forse una cosa che Kate fa in famiglia in famiglia è un po' di nascosto anche quando lei è andata a deporre una corona dove fu uccisa quella donna di cui non ricordo il nome ma quella uccisa da un poliziotto britannico dopo averla violentata ebbene Kate è andata a deporre dei fiori nel punto in cui questa donna è stata uccisa senza però dirlo a nessuno cioè senza mimetizzata nella folla in un modo anonimo chissà quante di queste cose ha fatto ma comunque insomma dopo questi dieci anni di attesa nei quali appunto William l'ha lasciata un paio di volte e Kate ha dimostrato una tenacia veramente incredibile nel non mollare la presa e nel alla fine portare a casa il risultato del matrimonio con William si arriva appunto al giorno del matrimonio il giorno del matrimonio in cui come era avvenuto per il matrimonio di Diana come è avvenuto per tutti i matrimoni reali persino con il matrimonio della regina Elisabetta prima che queste cose venissero trasmesse in mondo visione dalla televisione c'è sempre stato un grandissimo interesse per i matrimoni reali perché sono per la Gran Bretagna un momento di grande orgoglio nazionale non solo perché nel corso di questi matrimoni la Gran Bretagna dimostra di saper fare sia i matrimoni che i funerali benissimo sono i più bravi nell'organizzare questo genere di cerimonie e poi soprattutto perché nei matrimoni reali inglesi arrivano i capi di stato arrivano i sovrani di tutti gli altri paesi quindi c'è una forma come dire di riconoscimento del valore non dico superiore che ha la monarchia britannica ma sicuramente del suo valore storico del fatto che ha avuto per gli ultimi 70 anni una sovrana impeccabile della quale non si può dire nulla per il grande spirito di servizio con cui ha servito e serve ancora il suo paese e appunto quel giorno lì Kate è splendida in un abito di Alexander McQueen se non sbaglio con uno strascico di un paio di metri contro gli otto di Diana più sobrio Diana sembrava una meringa in pieno stile anni 80 per carità però diciamo l'eleganza di Kate si è distinta sicuramente e poi ci fu ovviamente il bacio sul balcone di Buckingham Palace le foto ci mostrano che loro si baciarono piegando il capo a destra e questo è considerato da chi studia il linguaggio del corpo come un segno di affetto reale di amore reale mentre invece Carlo e Diana si baciarono piegando il capo a sinistra e questo è considerato una cosa di malaugurio come si faceva negli antichi romani quando vedevano il corpo il corpo che arrivava e poi c'è una bellissima foto tra l'altro che mette a confronto gli sposi quando escono dopo la cerimonia che io ho voluto inserire nel libro e secondo me è significativa perché ci sono Carlo e Diana che escono vicini non manno nella mano e si volgono il loro sguardo ciascuno dal proprio lato quindi per guardare il pubblico invece William e Kate escono e si guardano negli occhi e questo già te la dice lunga su tutta l'intesa che realmente quella coppia aveva sicuramente loro è stato un matrimonio d'amore che poi sia stato qualcuno diciamo che abbia coreografato i primi passi dietro le quinte o meno sicuramente quei due continuano ad amarsi ancora oggi sì beh sicuramente cioè quello che appare evidente che Kate è come dire una forza nascosta dietro a William non si capisce che lei lo sostiene molto ma questo all'esterno non si vede giustamente lei deve fare lei sta al suo posto ecco sta al suo posto come facevano che è una cosa tremenda appunto da dire perché lei è una donna quindi uno dice oddio dice che la donna deve stare al suo posto dietro il suo uomo nel suo caso sì ma è la stessa cosa che ha fatto il principe Filippo per tutti gli anni di matrimonio con Elisabetta quindi lui era il principe consorte e lui doveva stare sempre un passo indietro rispetto a lei quindi sostenerla sostituirla anche nel suo ruolo invece famiglia perché si dice che Filippo sia stato quello che poi ha gestito un po' l'educazione infatti in maniera un po' rigidina dei figli proprio perché fuori di casa comandava la regina e dentro casa comandava Filippo e forse tra William e Kett è un po' così dentro casa comanda lei non c'è dubbio dopo il matrimonio diciamo una coppia felice tutti i giornali poi dei giornali parleremo perché tu dedichi un sacco di pagine al loro rapporto con i giornali ma diciamo i giornali li celebrano come una coppia felice vanno in giro sono sempre sorridenti mano nella mano si guardano agli occhi danno l'impressione di amarsi nasce George il primo figlio lei esce dalla clinica dopo due ore è perfetta come se non avesse mai partorito e qui si nota già una prima differenza quando Carlo andò a prendere Diana dopo la nascita di William Carlo era ovviamente in giacca e cravatta con il suo abito da giorno migliore e invece William va in maniche di camicia come fa la maggior parte dei padri insomma quindi anche questo è un segno come dire del modo di essere all'interno della royal family che sta rapidamente cambiando però diciamo se questo è l'aspetto esteriore non sono tutte rosa e fiori quello che accade dietro la quinta quali sono i due problemi il primo problema è che ne William ne Kate danno l'impressione di avere voglia di fare troppo lavoro per la royal family no? danno anzi l'impressione come due sposi giovani come qualunque copia di sposi giovani di volersi un po' godere la vita godere il loro tempo godere soprattutto il tempo con i figli e quindi di Kate si comincia a parlare come della duchessa Doolittle cioè la duchessa Doolittle che fa poco no? e poi c'è un altro problema parlaci di entrambi questi problemi il problema dell'invadenza dei Middleton va bene sì allora come in tutte le famiglie allora innanzitutto Kate a un certo punto si deve trovare dopo il matrimonio anche lì il proprio ruolo e qui è bello perché seguirla diciamo negli anni anche per come viene poi rappresentata sulla stampa e quant'altro si vede proprio la sua evoluzione e la si vede nella gestualità nella postura i primi anni lei seguiva sempre molto spesso la regina o comunque qualche altro membro della Royal Family faceva da tappezzeria era sempre lì carina precisa con la sua poscetta in mano dietro non dietro le quinte ma sempre un passo indietro diciamo i Royal Senior poi pian piano comincia a prendersi la scena quindi appunto accusata di fare troppo poco per la monarchia ed è anche una cosa su cui lei e William poi scherzavano molto perché è lui che comincia a chiamarla con questo nomignolo cerca un po' il suo spazio e riesce a conquistarlo però gradualmente ecco lei non è una che si tuffa e non è una che caratterialmente come Meghan ad esempio sa stare sotto i riflettori anzi è una persona che chi la conosce davvero dice è molto timida è schiva è riservata quindi lei fatica lei lavora seriamente per cercare di entrare a perfezione in questo ruolo che le è stato assegnato che lei ha accettato con totale consapevolezza al contrario di quanto era successo con Diana e quindi mano mano diciamo per lei le cose vanno sempre meglio anche perché la regina comincia a apprezzare il suo lavoro la sua presenza il fatto che lei ancora al contrario di Diana sappia attirare su di sé i riflettori ma sappia anche illuminare di luce riflessa il marito che è una cosa importantissima perché Diana era una che cercava la scena che aveva bisogno di essere sempre la star perché aveva bisogno di conferme invece Kate è una donna che ha una famiglia che la sostiene un marito che la ama e questo le consente di essere totalmente a suo agio nel suo ruolo senza avere diciamo delle manie di protagonismo eccessive che nella monarchia non vanno affatto bene nella gerarchia della monarchia e a un certo punto però il problema diventa appunto questa sua famiglia che sicuramente è una risorsa e la regina sa quanto in realtà i Middleton siano una rete di sostegno anche per la per la coppia dei duchi di Cambridge e per la famiglia quando diventano famiglia però è anche una presenza un po' ingombrante perché perché c'è mamma Carol che si presenta a tutte le ore a Kensington Palace per fare da babysitter ai suoi nipoti perché non li vogliono lasciare all'etate se li porta in vacanza a un certo punto cominciano a lamentarsi Carlo dice non riesco a vedere i miei nipoti la regina li vorrebbe con sé quando ha un minimo di spazio per magari poterli vedere e questo non succede perché questi bambini sono spesso dei nonni materni in più continuano tutte le cattiverie su Carol che continua ad essere bersagliata dalla stampa il problema qual è? che tutto questo si trasforma in immagine negativa per Kate quindi tutto questo fusca tutto questo lavoro invece di di perfezione utile a creare un'immagine impeccabile della duchessa e quindi a un certo punto probabilmente io voglio pensare per scelta comune perché poi è stato sempre tutto pianificato a tavolino cioè da dire tra la casa reale o meglio Clarence House e la famiglia Middleton quindi questo anche per quanto riguarda ad esempio il rapporto con la stampa c'è sempre stato una modalità di confronto e di raggiungere delle decisioni comuni quindi anche in questo caso probabilmente avranno detto è meglio lasciare la famiglia di Kate lontano dai riflettori quindi non concedere interviste cercare di farli forse vedere anche di meno nelle occasioni pubbliche per evitare magari un continuo attacco da parte dello stampa i maligni invece dicono che che in realtà a un certo punto a casa Middleton non siano più arrivati gli inviti a tutti gli appuntamenti quindi alle corse di Ascot piuttosto che tutte quelle altre occasioni in cui le due famiglie si riunivano assieme e quindi dov'è la verità forse nel mezzo come sempre perché è facile capire anche che come succede in tutte le famiglie a un certo punto quando si uniscono due ragazzi e ci sono due famiglie tra l'altro in questo caso molto diverse che si trovano a convivere quantomeno in alcuni momenti a un certo punto si finisca per non andare più così d'accordo il problema è che loro non si possono accabiliare o discutere sotto i riflettori quindi forse la decisione più saggia è quella di non farsi vedere tutti insieme in pubblico sì io credo che a Middleton sia stato in sostanza posto un divieto di dare interviste perché non solo perché i giornalisti li avrebbero assediati dalla mattina alla sera ma anche perché sai mai cosa vanno a dire insomma quali particolari vanno a raccontare degli incontri con la regina o di chissà che cosa e poi forse c'è anche qualcos'altro cioè io sono convinto che ci deve essere stato un momento di rottura a un certo punto i giornali inglesi scrissero che la madre di Kate voleva mettere il marchio reale o la parola Royal nei suoi prodotti nei prodotti che vendeva per i party un po' il tentativo che fece poi Megan anni dopo con il suo sito e questa cosa le fu ovviamente vietata ma indubbiamente c'è stato un momento in cui i rapporti sono finiti può darsi anche che ci sia un po' di gelosia sia da parte di Carlo per il fatto che i suoi nipoti stavano sempre con i nonni materni e non con lui che aveva scarsissime possibilità di vederli e poi forse anche un po' di paura che William diciamo si integrasse troppo in una famiglia borghese cioè perdesse le buone abitudini del cenare in giacca e cravatta con il cameriere che ti serve perché trovava più piacevole andare appunto a servirsi direttamente al frigorifero e mangiare qualcosa guardando la televisione stravaccato sul divano e che magari gli venisse in mente anche di fuggire dalla casa reale come poi avrebbe fatto il fratello esatto però visto che abbiamo parlato appunto della stampa parliamo del rapporto con la stampa perché non è una cosa diciamo ininfluente nella Royal Family britannica qual è il problema del rapporto fra i giornali inglesi e la monarchia è il fatto che la monarchia riceve dei soldi pubblici per pagare le proprie spese non le paga tutte con soldi pubblici ma diciamo in buona parte sì allora i giornali ritengono che se i soldi che i cittadini pagano con le tasse vanno a finanziare la Royal Family allora i giornali hanno il diritto di indagare su quello che fanno i membri della Royal Family su come spendono questi soldi e su cosa fanno in cambio di questi soldi per il paese quindi dal loro punto di vista dal punto di vista dei giornalisti britannici tutte le cose che si scrivono sui Royals non sono invasioni della privacy ma sono semplicemente una verifica alla quale per la sua natura il giornalismo è tenuto di come si vengono spesi i soldi pubblici e la cosa che non ha capito Meghan quando è arrivata a Londra cioè non ha capito che anche lei entrava in questo meccanismo noi ti paghiamo con i soldi delle nostre tasse però vogliamo sapere cosa fai in cambio di questi soldi che ricevi e quindi abbiamo il diritto di indagare sulla tua vita privata però William e Kate hanno un po' cambiato questo rapporto perché sono stati i primi a protestare seriamente cioè il primo la prima foto lo racconti nel tuo libro è quella scattata dal Sun nel 2004 mentre erano in vacanza in montagna in Svizzera nello chalet di Carlo insieme a Carlo e Camilla e lì cosa accadde che appunto ci fu il primo bacio pubblico sì in realtà in questa foto neanche si vede il bacio loro erano a sciare assieme certo lei era già ufficialmente la ragazza di William perché il fatto che andasse in vacanza con il padre del suo fidanzato e la moglie insomma era indicativo però furono fotografati vicini vicini questa era la definizione che dava il Sun in realtà si capiva diciamo dai gesti dalla loro intimità che erano di più ecco qualcosa di più che semplici amici e lì si scoppiò un po' un putiferio anche perché l'accordo con la stampa era stato quello di che Carlo e William avrebbero posato per i fotografi avrebbero risposto ad alcune domande e poi però i fotografi dovevano lasciarli stare invece è successo che poi un paparazzo ha seguito William e quindi ha scattato questa foto in realtà poi negli anni ci saranno altri casi tra l'altro appunto il rapporto con la stampa diciamo che era un argomento che stava molto a cuore perché in quanto giornalista anche se non mi occupo di gossip insomma so un po' quali sono le logiche e soprattutto trovo che sia interessante per il pubblico soprattutto chi ha seguito poi le vicende in questi ultimi anni di Meghan che si lamentava per il trattamento che i tabloidi che la stampa le aveva riservato raccontare che invece il trattamento riservato a Kate è stato esattamente lo stesso i tabloidi sono inflessibili guadagnano naturalmente su questi scoop quindi in realtà quello che è stato diverso diciamo rispetto al rapporto della stampa con l'una e l'altra coppia è stata proprio la gestione cioè come le coppie hanno reagito a questa invasione nella loro privacy e nel caso di Kate appunto come dicevo in realtà si sono messe a tavolino le due famiglie quindi gli avvocati di Carlo sono stati prestati a papà Middleton che di tasca propria naturalmente li ha pagati e si è stabilita una strategia quindi appunto quella di evitare il più possibile dichiarazioni situazioni in cui potevano essere fotografati i ragazzi e quant'altro e la cosa che spaventava però di più William lui si svegliava di notte vedendo l'immagine del famoso schianto sotto il tunnel dell'alma dell'incidente di auto in cui era morta sua mamma e vedeva al posto di Diana la propria ragazza ci vede a Kate perché era preoccupato del fatto che i paparazzi la seguissero ovunque e ci fu un giorno in cui tra l'altro Kate fu protagonista di un inseguimento con l'auto tremendo lei guidava la propria auto era inseguita da questi due paparazzi in moto a un certo punto lei si rende conto di andare troppo veloce accosta lascia che questo paparazzo gli arrivi accanto e gli dice senta mamma mi lasci in pace per favore io sto andando a lavoro e lui gli disse cara signorina Middleton lei sta frequentando un principe quindi il momento in cui non uscirà più con il principe noi la lasceremo stare come se fosse dovuto appunto questo interesse morboso e poi in realtà le cose cambieranno perché ci sarà un accordo poi tra la coppia reale quando finalmente diventano marito e moglie e la stampa e in cambio di questo accordo loro si prestano naturalmente a farsi vedere nelle occasioni ufficiali prestano i propri figli per la diffusione di foto in occasione dei compleanni e di quant'altro quindi diciamo stanno ad alcune regole e in cambio ottengono diciamo di essere lasciati in pace nella loro quotidianità quindi ad esempio Kate è libera di portare a spasso con il passeggino il bambino nei giardini di Kensington e quant'altro anche perché Kate è appassionata di fotografie infatti le prime foto dei suoi bambini quando la regina Elisabetta aveva dei figli chiamava Cecil Beaton chiamava i più grandi fotografi disponibili mentre invece Kate ha scattato lei le prime foto che sono state pubblicate dei suoi figli le prime erano bruttine adesso è un po' la prima in assoluta era scattata il papà in realtà il papà nel giardino tutto contro sole non si vedeva niente esatto scena di bello c'era solo il cane e comunque sì loro sono stati molto decisi nel querelare anche quando Kate venne fotografata a seno nudo mentre prendeva il sole in una proprietà privata in Provenza loro querelarono tutti i giornali che avevano pubblicato la foto quindi per i match in Francia ma anche chi credo anche chi in Italia mentre in Gran Bretagna nessuno pubblicò quella foto credo neanche il Sun e querelarono vinse la causa e furono eserciti anche se con una somma piuttosto bassa ma insomma quello che loro hanno capito a differenza di Diana a differenza di tanti altri esponenti della famiglia reale britannica è che con i giornali inglesi non si scherza nel senso che veramente sono feroci sono in grado di fare qualunque cosa perché il loro primo obiettivo è quello di guadagnare soldi vendendo copie e soprattutto che se non gli dai qualcosa da mangiare loro mangiano te non c'è non c'è alternativa a questo meccanismo per cui l'idea che appunto si stabiliscono delle regole chiare gli si dà ogni tanto la possibilità di scattare delle foto di fare un'intervista insomma si gestisce controllandolo il rapporto con i media o se no se lo lasci a se stesso ti si rivolta contro che è la cosa che non aveva capito Diana Diana aveva pensato per moltissimi anni di poter di poterli usare di poter usare i media non c'è riuscita nel senso che un po' sì ma poi l'hanno travolta l'hanno travolta soprattutto quando lei ha cominciato ad uscire dalle regole che piacevano al pubblico e quindi lo dico veramente con grande franchezza quando ha cominciato a frequentare il medico pakistano quando si è messa con Dodi al-Fayed pensate se Diana avesse sposato Dodi al-Fayed e si fosse convertita all'Islam come pensava di fare stava studiando il Corano eccetera forse oggi non avremo di lei la gente non avrebbe di lei questo ricordo della principessa del popolo eccetera quindi insomma bisogna sempre fare in Gran Bretagna bisogna sempre fare attenzione ma per un'unica ragione non è che gli inglesi violano che i giornali inglesi violano la privacy dei privati cittadini su questo fanno molta attenzione ma per i royal c'è questa convinzione che siccome ricevono soldi pubblici devono rispondere dei soldi che ricevono da chi paga le tasse con Kate è successa un'altra cosa che diciamo non era mai successa prima nel senso che Diana negli ultimi anni della sua vita si vestiva splendidamente con Versace con tutti questi grandi stilisti però nei primi anni Diana era anche terribile se guardiamo le sue foto portata in questi maglioni si se guardiamo le sue foto ad esempio del viaggio in Italia che fece con Carlo anche Kate andò in Italia per tre mesi ha anche vissuto Kate ha vissuto a Firenze per tre mesi ha studiato l'italiano ha studiato storia dell'arte nella culla diciamo della civiltà ha imparato a bere il vino bianco si ha imparato a cucinare la pasta e pare che la cucini molto spesso a casa però non si è lasciata affascinare da nessun ragazzo italiano è certo e comunque diciamo quando si vedevano questi abiti splendidi di Diana non è che il giorno dopo le ragazze potessero correre a comprarli perché erano abiti firmati che costavano l'ira di Dio e soprattutto che non erano in vendita erano pezzi unici invece con Kate è nato l'effetto Kate che è diventata anche una voce delle enciclopedie se voi cercate su Wikipedia effetto Kate c'è se vi dicono che cos'è che cos'è Eva è quella magia per cui ogni volta che Kate indossa un abito un accessorio quel capo va esaurito nel giro di giorni ore o addirittura minuti e i casi a un certo punto si susseguono velocemente perché accade che fin dall'inizio diciamo fin dalle prime apparizioni di Kate sulla scena pubblica lei appare con indosso un determinato cappotto e abito e immediatamente il brand soprattutto britannico sono quasi sempre britannici e si trova a dover fare conti con il sito che va in crash ordini da tutto il mondo perché poi è un effetto non solo che si rispecchia sul mercato del Regno Unito ma a livello internazionale quindi gli ordini arrivano veramente da tutto il mondo e tra l'altro tra i tanti casi che si possono citare c'è quello più lampante più famoso che è quello dell'abito che lei mette per il giorno dell'annuncio del fidanzamento che è un abito semplicissimo in maglina che lei tra l'altro aveva pagato meno di 100 sterline e di questo piccolo brand di nicchia inglese che si chiama Issa la stilista aveva poco più di 20 dipendenti tra negozi showroom a un certo punto si trova a essere sommersa dalle telefonate perché Kate appare sotto i riflettori con quest'abito blu tra l'altro nello stesso colore dello zaffido di Lady Diana che le è stato regalato da William insieme alla promessa d'amore e in pratica arrivano queste telefonate gli ordini cosa succede che nei giorni che seguono il brand non riesce a tenere botta e quindi a un certo punto tra l'altro con la proprietaria che va in esaurimento nervoso dichiara fallimento lo rileva tra l'altro poi la la figlia di di un famoso imprenditore inglese di cui non mi viene il nome ma insomma questo brand che deve a Kate la sua celebrità ma poi deve a Kate anche in realtà la sua rovina e quindi qual è la strategia diciamo di Kate è quella di far sì che tutte possano immedesimarsi in lei e questo riesce a farlo vestendo dei brand che sono a prezzo democratico quindi di marchi si chiama di high street inglesi soprattutto quindi negozi dove tutte possono comprare per poche sterline oppure addirittura nei negozi di fast fashion quindi Zara Topshop questo perché perché deve consentire a tutti di immedesimarsi in lei e di poter acquistare gli stessi abiti e accessori perché tutto questo muove un importante indotto economico quindi a tutti gli effetti Kate Middleton è un influencer però a differenza di una nostra Chiara Ferragni non riceve nulla in cambio per quello che fa cioè i suoi endorsement sono del tutto volontari e sono del tutto gratuiti i guadagni sono dei brand e quindi in maniera più allargata poi dell'economia del Regno Unito perché lei diventa a tutti gli effetti la migliore ambasciatrice della moda del lusso a livello internazionale del brand monarchia se così vogliamo chiamarlo perché si fa appunto testimonial di tutto quello che è il meglio della monarchia e del Regno Unito certo e in questo i giornali li aiutano pensate che il Daily Mail che è un giornale che ancora oggi nonostante la crisi dei giornali di carta vende quasi un milione di copie di cartacee ma perché è fatto diciamo con una logica estremamente rivolta al lettore quasi tutti i titoli del Daily Mail contengono la parola you contengono la parola tu come cambia per te la vita dopo che il governo ha deciso questa cosa quindi è un giornale estremamente rivolto ai suoi lettori e il Daily Mail è in grado 20 secondi dopo che che Kate ha indossato un vestito di pubblicare sul suo sito internet chi vende quel vestito dove lo si può trovare quanto costa dove lo si può trovare online eccetera quindi c'è e dove comprare invece delle copie se non hai soldi per comprare quella cosa lì o se non hai soldi o se quell'abito lì è esaurito ti fa vedere anche l'abito che gli somiglia di più e che puoi comprare perché costa di meno eccetera quindi c'è anche come dire una complicità dei giornali in questo effetto Kate effetto Kate che non ha la regina nessuno va a comprarsi i cappellini della regina dopo che lei si è presentata e va bene così ecco essenzialmente assurda anche perché Elisabetta si è creata uno stile personale nel corso degli anni che veramente non è nemmeno uno stile è qualcosa di inibitabile di suo e che ha anche sapete una funzione molto pratica nel senso che questi colori pastello che lei usa nei propri abiti e che non usa nessun altro sono scelti proprio perché non li usa nessun altro perché la regina sostiene che quando le persone fanno ore di coda o si preparano da settimane perché c'è un evento al quale lei partecipa e ci sono magari migliaia di persone tra le quali lei si mescola lei deve essere visibile cioè lei vuole e desidera questo l'ha detto apertamente che le persone possano tornare a casa e dire oggi ho visto la regina anche se anche se l'ho vista da cento metri di distanza ma devo avere la possibilità di sapere che è lei e allora è il colore strano del suo abito sono i suoi cappelli che la rendono visibile così come quando Grace Kelly scese dall'aereo per andare a sposare Ragneri di Monaco e aveva un cappello enorme e poi le chiesero ma come mai ti sei messa quel cappello enorme e lei disse perché volevo distinguermi dalla mia segretaria cioè volevo che la gente che mi guardava da lontano sapesse che quella ero io e la regina utilizza questi abiti proprio per la stessa ragione per poter consentire a tutti di dire oggi ho visto la regina passiamo a Megan passiamo a Megan perché Megan e Kate hanno la stessa più o meno la stessa età Megan ha qualche anno di più ma insomma pochi di più sei mesi in realtà pochissimi sei mesi anche Megan è nata in una famiglia infelice lo sappiamo i suoi rapporti con il padre sono tremendi la madre ha divorziato dal padre però insomma tutti pensavano che con l'arrivo di Megan a corte sarebbe nata una grande amicizia cioè che le due si sarebbero trovate mogli di due fratelli quindi con un rapporto con un rapporto quasi simbiotico insomma di amicizia e di complicità invece hanno litigato quasi subito come mai che cosa è successo dunque innanzitutto sì io nel libro racconto che in effetti sulla carta potevano essere amiche anche perché appunto sono coetane hanno sono della stessa generazione soprattutto sono diventano mogli di due fratelli che erano molto legati e tra l'altro Kate era anche molto legata a Harry hanno sempre avuto un ottimo rapporto proprio di grande di grande amicizia in realtà tutto questo non succede perché innanzitutto sono molto diverse caratterialmente e poi sono molto diverse in quanto ha vissuto come dicevi appunto hanno alle spalle delle esperienze molto diverse Kate è nata e vissuta in una famiglia felice ha sempre avuto accanto a sé delle persone che l'hanno accompagnata che l'hanno spronata che l'hanno supportata invece Megan è sempre una che fin da ragazzina ha avuto il desiderio di far sentire la propria voce ha sempre avuto un desiderio un po' di rivalsa che ha subito anche un po' il razzismo perché poi in America diciamo se nasci in un soborgo e tra l'altro sei figlia di due persone che hanno la pelle di diverso colore non è facilissimo andare avanti ecco si è scontrata fin da subito con le disuguaglianze sociale con il razzismo eccetera quindi arriva diciamo con un bagaglio di esperienze anche un bagaglio emotivo importante oltretutto è una persona che sa già stare sotto i riflettori perché comunque ha fatto un po' di carriera diciamo non a Hollywood diciamolo perché comunque è diventata famosa con una serie televisiva però comunque si era costruita diciamo una carriera nel mondo dello spettacolo è una tra l'altro istrionica che ci sa fare che sa stare sotto i riflettori quando arriva in mezzo alle persone e abbraccia saluta è anche una molto espansiva quindi davvero molto diversa da Kate che invece sta lì precisina e rigorosa quindi sicuramente le due sono molto diverse oltretutto che cosa accade che probabilmente Meghan e Harry che da subito diventano una coppia molto popolare molto amata perché sono i più glamour i più moderni quelli che mettono da parte il protocollo e si abbracciano si stringono da subito diventano molto amati e quindi fanno sembrare di colpo la coppia dei duchi di Cambridge vecchia e polverosa quindi probabilmente non si crea un antagonismo ecco perché all'inizio vengono visti tutti e quattro fare gioco di squadra vengono addirittura chiamati i Fab Four come come i Fantastici Quattro come i Beatles però succede qualcosa e questo qualcosa lo racconta anche un po' la biografia poi di Meghan e Harry che è uscita lo scorso anno Finding Freedom succede che Harry e Meghan sono convinti di dover avere un ruolo sempre maggiore sulla scena perché dicono noi siamo i più amati anche a livello internazionale siamo molto popolari vogliamo portare avanti dei progetti nostri e quant'altro questo però non gli viene concesso perché comunque la monarchia è gerarchica e quindi i progetti diciamo della coppia Harry e Meghan devono venire necessariamente dopo gli impegni di Carlo e Camilla e quelli di William e Kate e oltretutto diciamo i rapporti tra le due cognate cominciano un po' incrinarsi viene raccontato il famoso a fare delle calzette delle damigelle al matrimonio di Meghan questo l'avrete letto tutti si dice che le due Meghan e Kate abbiano litigato veramente quando durante la prova per gli abiti del matrimonio delle damigelle di Meghan una delle due è scoppiata a piangere proprio disquisendo sul fatto che le damigelle dovessero avere o no queste benedette calze diciamo che il fatto che abbiano litigato per un fatto di calze già la dice lunga su quanto si abbassa il livello diciamo di questa lite ma comunque succede qualcosa allora si dice che Meghan abbia fatto piangere Kate in realtà poi Meghan prende la parola dal divano di Ofra Winfrey e dice no è stata Kate a far piangere me quasi con un desiderio di rivalza fatto sta che sicuramente quello non era un periodo facile per nessuna delle due perché da una parte c'era la sposa che si era al suo secondo matrimonio ma questo era ben più importante del primo perché sposava un principe era un matrimonio in mondo visione quindi sicuramente voleva fare di testa sua e apparire al meglio dall'altra c'era Kate che aveva appena partorito il terzo figlio tra l'altro molto faticosamente lei era arrivata a lavorare fino addirittura a 15 giorni prima di sfornare il terzo pargolo e altrettanto faticosamente si era rimessa in forma subito dopo cioè a 20 giorni dalla nascita del terzo figlio lei si presenta al royal wedding sempre impeccabile quindi sicuramente era un periodo di grande stress per tutte e due i rapporti fatto sta che si guastano e da lì diciamo le cose poi vanno sempre più a peggiorare io credo si siano guastati anche perché Meghan aveva forse altre aspettative non dobbiamo dimenticare che lei era un'attrice sul viale del tramonto tu dici è diventata famosa con la partecipazione a Suiz ma io non credo credo che sia diventata famosa perché ha sposato Harry perché nessuno di noi nessuno di noi ricorda il nome di un solo attore di quella serie televisiva però tutti conosciamo Meghan che aveva peraltro una parte non di primissimo piano e proprio perché era in una fase di declino della sua vita è andata a Londra a cercare dei nuovi riflettori che si accendessero per illuminarla e quando ha scoperto che in realtà la sua vita come tu dici non sarebbe stata tanto sotto i riflettori perché il suo posto quando la famiglia reale andava in chiesa era nel quarto banco cioè nel primo banco c'erano la regina e Filippo nel secondo c'erano Carlo e Camilla nel terzo c'erano William e Kate e nel quarto c'era Meghan con Harry la stessa cosa nelle parate che so io per il Memorial Day quando i reali guardano le truppe i reduci di tutte le guerre che sfilano a Whitehall e la regina Carlo e William sono in un balcone e Meghan è nel balcone di fianco insieme ai generali quindi quando lei ha capito che la sua vita a corte sarebbe stata relegata in quarta fila ha pensato ha pensato di prendere Harry al guinzaglio e di portarselo e di portarselo negli Stati Uniti tra gli aspetti oscuri di Kate ce n'è uno di cui non si sa nulla cioè Kate è molto magra spesso compare in pubblico con dei cerotti sulle mani e quindi ovviamente i giornali inglesi hanno fatto un sacco di speculazioni su queste cose avvicinando anche diciamo i suoi eventuali problemi psicologici a quelli di Diana e parlando anche di forme di bulimia per Kate come le aveva avute Diana soprattutto nei primi anni ma poi non se ne liberò mai in realtà di questo problema anche a causa appunto dello stress della vita corte tu sei convinta che anche Kate nasconda uno stress così grave da farle avere momenti di autolesionismo o di bulimia allora sono convinta che lei viva un grandissimo stress questo assolutamente sì ma è inevitabile per il ruolo che ha e per la vita che che svolge quotidianamente anche perché Kate è una che non solo lavora duramente ma è anche una convinta di voler essere una buona mamma e questo quindi è difficile la conciliazione famiglia-lavoro sembra sembra assurdo da dire perché sicuramente rispetto a noi lei può contare su una schiera di tate di aiuti in casa eccetera però comunque quando sei via tutto il giorno e hai il desiderio di tornare dai tuoi bambini è legittimo anche quella cosa lì e mi sono persa no stavamo dicendo se ritieni possibile ritengo possibile sicuramente che lei abbia un fortissimo stress accumulato e che debba scaricarlo in qualche modo allora dalla sua ha il fatto di essere una grandissima sportiva quindi lei trova nell'attività sportiva una valvola di sfogo per tutte queste pressioni eccetera e dall'altra è possibile anche che nel suo stressarsi per raggiungere sempre quell'obiettivo di perfezione che non solo le viene dato ma che lei pone a se stessa perché lei è la prima a voler sempre primeggiare in tutto quindi probabilmente è la prima a voler ad esempio ritornare subito in forma dopo una gravidanza perché l'abbiamo vista sempre fare lo yo-yo con il peso cioè prendere parecchi chili e poi subito dopo la nascita del bambino ridiventare un'acciughina quindi probabilmente lei stessa si sottopone a questo stress delle diete eccetera non necessariamente questo significa che sia bulimica come lo è lei di Diana è vero che alcuni riconducono diciamo queste abrasioni che lei spesso mostra sulle dita ai famosi segni di Russell che sono tipici di chi si induce il vomito mettendosi sempre le mani in bocca però è anche vero che altri hanno detto potrebbero essere delle scoriazioni dovute proprio a dei gesti quasi di autolesionismo e questo se ci si fa caso e si guardano le foto che poi non vengono pubblicate dai giornali ma che vengono scattate durante gli eventi pubblici si vede che molto spesso nei primi piani che si tende a stringere le mani tenendole così quindi mantenendo una postura composta naturalmente tende a stringersi forte forte le dita una sull'altra e molto spesso probabilmente le sfrega quindi sicuramente è un segno di forte stress da qui a dire che abbia dei disturbi alimentari però ecco bisogna stare molto attenti non a caso quando questa scossa è stata messa nero su bianco dal dal tatler che poi è la bibbia dell'aristocrazia inglese sono volate le querele da parte della casa reale insomma perché è molto grave dire soprattutto fare un parallelismo tra la magrezza di Kate e quella di Diana perché il fatto che Diana fosse bulimica è appurato è confermato insomma certo quello che è certo è che mentre diciamo Diana quando compariva in pubblico anche nel linguaggio del corpo soprattutto dopo la rottura con Carlo diciamo dopo l'84 l'85 lasciava vedere tutti i suoi tormenti personali Kate invece questo proprio non lo fa quando compare in pubblico è sempre perfetta il 9 gennaio ha compiuto 40 anni sono state scattate tre fotografie o scelte tra le molte scattate tre fotografie che adesso andranno alla National Portrait Gallery e il quarantesimo anniversario è servito anche a santificarla come diciamo la la futura regina ideale non c'è un difetto che si possa attribuire a Kate è stata sempre perfetta al contrario di Diana che che non sopportava che qualcuno le consigliasse o le dicesse che cosa doveva fare invece Kate ascolta tutti i consigli ascolta le cose che le vengono dette fa come quando era bambina al meglio le cose che le vengono chieste che le viene chiesto di fare che futura monarchia ti immagini con William e Kate e sei d'accordo con quanti sostengono che Carlo dovrebbe lasciare subito il posto al figlio allora indubbiamente la popolarità di Carlo non è neanche lontanamente comparabile con quella di non tanto di William ma della coppia William e Kate quindi ci sta che in molti vogliono vedere passare questa corona direttamente dalla nonna al nipote però io penso anche che che non debba essere così perché poi alla fine la monarchia che piaccia o no è un'istituzione sicuramente vetusta che fatica a tenere il passo con la modernità e che però se poi rinuncia a quelli che sono diciamo i suoi capisaldi e quindi alle regole principali allora non ha veramente più senso ad essere quindi non passerà la corona direttamente a William perché alla fine Carlo al di là diciamo delle sue traversie amorose del fatto di aver tradito la moglie che poi è stata appunto santificata a livello mondiale e resta amatissima alla fine questo povero uomo alla fine non ha fatto niente di così grave da dire ok deve abdicare a favore del figlio è uno che comunque è nato diciamo destinato a raccogliere l'eredità della corona su di sé è un uomo che aspetta da 70 anni questo momento e che alla fine è anche stimato comunque giusto in Inghilterra perché comunque è una persona di grande cultura è stato come adesso sappiamo un ecologista antelitteram è uno che addirittura credeva nella creazione di una città ideale che ha costruito effettivamente in Inghilterra quindi è uno a cui comunque si devono si devono riconoscere dei meriti naturalmente non è uno né moderno né diciamo abbastanza glamour da poter mantenere la monarchia magica soprattutto l'immagine della monarchia che viene venduta diciamo all'estero però sicuramente andrà così ecco la corona andrà a Carlo Kate diventerà principessa del Galles che comunque è un titolo molto molto pesante da sopportare il peso della corona che Camilla non ha avuto Camilla non l'ha avuto perché sarebbe stato alquanto sgradevole dare il titolo della moglie morta all'amante di sempre diventata la seconda moglie però quindi Kate sarà la prima a indossarlo dopo Diana quindi è già una cosa molto importante e poi andrà avanti sicuramente la coppia William e Kate resterà molto presente sul palcoscenico anche quando Carlo e Camilla in realtà saranno sul trono tra virgolette questo sì e poi con diciamo come immagini la monarchia di William e Kate quando William sarà re a che punto saremo di questa millenaria storia della monarchia britannica saremo probabilmente non so un po' al confronto con la dura realtà perché se pensiamo già è difficile immaginarla adesso insomma l'istituzione monarchia è sempre più difficile sopravvivere e poi se pensiamo alle monarchie di altri paesi i paesi nordici abbiamo visto come abbiano perso tutta la loro magia tutto il loro lustro cioè noi non sappiamo quali siano le altre monarchie in giro per il mondo alla fine non interessano a nessuno perché perché si sono forse talmente imborghesite che hanno perso appunto questa distanza questa particolarità che le rende così interessanti agli occhi del pubblico e quindi forse finirà un po' così io penso che comunque l'elemento di divertimento ce lo potrà dare la figlia femmina dei due Charlotte la principessa Charlotte secondo me sarà una che forse richiamerà un po' alla mente i fasti dell'era della principessa Margaret sarà una un po' bizzosa che vedremo su tutti i giornali di gossip sì diciamo la cosa che forse dovranno evitare è di diventare come noi perché se diventano come noi vanno anche loro a fare la spesa al supermercato in bicicletta allora smetteranno di interessarci io ho finito il mio elenco di domande per Eva che ringrazio per averci raccontato tutte queste cose su Kate però abbiamo ancora qualche minuto se c'è qualche domanda da parte del pubblico credo che Eva sia disposta a rispondere e fuori ci sono delle copie del libro ovviamente che potete eventualmente acquistare e che Eva credo è pronta a firmare certo con dediche varie e anche Vittorio può rispondere a qualche domanda perché il motivo per cui Vittorio è qui è che ha una lunghissima esperienza non solo appunto come dicevi di corrispondente da Londra ma poi ha all'attivo parecchi parecchi libri e biografie sui reali tra cui una sul principe Carlo che io consiglio perché è un modo veramente per leggere questa figura che da noi è rimasta famosa sempre solo come il marito filigrafo di Diana sì sì ho voluto riabilitare Carlo proprio perché c'è una cosa che spiega il suo rapporto con Diana Carlo non ha mai parlato male di sua moglie mai e avrebbe avuto molti motivi per farlo perché si parla tanto dei suoi tradimenti con Camilla ma l'elenco dei tradimenti di Diana è infinito e secondo me sono avvenuti anche prima che Carlo riprendesse i rapporti con Camilla però lui non ha mai detto una sola parola contro sua moglie mentre invece Diana ne ha dette di tutti i colori quindi tutti noi avevamo abbiamo la convinzione che Carlo sia una persona che l'ha tradita che l'ha maltrattata che non l'ha capita eccetera invece le cose non sono andate così però abbiamo questa convinzione perché l'unica racconto che ci è pervenuto del rapporto fra Carlo e Diana è stato il racconto di Diana fatto attraverso interviste televisive libri che lei ha ispirato all'interno dei quali ci sono alcune cose vere ma ci sono anche tante interpretazioni diciamo di parte del suo rapporto con il marito e quindi non lo so quando sono arrivato a Londra io sono arrivato in quella città con la convinzione che la monarchia fosse una cosa superata del passato che non capivo bene la funzione di una monarchia in una moderna democrazia e invece stando lì ho capito qual era il rispetto di cui era circondata Elisabetta e anche l'importanza da un punto di vista politico sociale dell'avere in Gran Bretagna quel tipo di monarchia e quindi così sono tornato con la voglia un po' di raccontare delle cose che forse in Italia non erano ancora molto conosciute mi disturbava ad esempio il fatto che tutte le cronache dei telegiornali all'epoca e ancora un po' oggi che riguardavano la regina Elisabetta dovessero sempre finire con una battuta di spirito della regina bisognava solo ridere per i suoi capellini per le borsette per i vestiti per i corgi per il che delle cinque per il ricevimento lei che è così tanto dignitosa sì no e invece in Gran Bretagna c'era un rispetto pazzesco per questa donna io ho imparato a rispettarla anch'io e quando ho finito il mio periodo di corrispondenza le ho anche scritto una lettera per vedere che succedeva se si scrive alla regina e le ho proprio detto queste cose sono un corrispondente parto e volevo dirle che sono venuto qui con un sacco di pregiudizi e invece ho capito il grande lavoro che lei ha fatto in questi anni per il suo paese e lei mi ha fatto rispondere dopo due mesi da una leading waiting ed è una lettera che ovviamente ancora conservo ma la vera risposta è poi arrivata qualche mese ancora dopo con un invito a Buckingham Palace io quello lo aspetto ancora le risposte alle lettere le ricevo sempre i miei figli scrivono tutti i compleani dei principini anzi adesso l'altro giorno mio figlio piccolo si lamentava perché torna da scuola e fa mamma ma la regina ancora non ci ha risposto agli auguri di Natale cioè siamo a fine gennaio lui gli ha mandato tutto questo ritratto tra l'altro bellissimo che io ho fotografato prima di inviare e lui ci tiene molto e poi quando dice la preghierina non si sa perché dice oddio mamma ti prego fa che non muoia la regina dico guarda che però prima o poi succederà anche questa cosa dovrà succedere purtroppo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti